Mi auguro che lasciando questa targa chi passerà avrà la curiosità forse di chiedersi chi era questo personaggio che è nato in questo palazzo perché non è così ovvio che tutti sappiano o se lo ricordino insomma. In via Monte Calvario nei quartieri spagnoli è stata scoperta questa mattina una targa sul palazzo in cui nacque Francesco Rosi uno dei maggiori registi italiani del novecento autore di film di grande rilevanza civile. Suggererei di andarsi a rivedere anche il caso Mattei che in questi giorni è estremamente attuale. Ci sono dei film che andrebbero trasmessi nelle scuole non so come dire per rendere edotti i ragazzi su quello che è avvenuto prima e che sono poi le conseguenze di come viviamo adesso. Se venisse ritrasmesso Uomini contro è veramente quello un film contro la guerra. Adesso si parla tanto della guerra si dice si fa ma basterebbe veramente trasmettere quel film che sarebbe una voce che si leva contro contro la guerra. Francesco Rosi diresse fra gli altri attori come Vittorio Gasman, Sofia Loren, Gian Maria Volontè, Rod Steiger, Salvo Randone, Irene Papas, Philippe Noiret. Per la sua opera cinematografica fu insignito del Leone d'Oro a Venezia e dell'Orso d'Oro a Berlino. Per molti di noi, in particolare per quelli che vengono dalla scuola di architettura e di urbanistica di questa città, le mani sulla città è un capitolo dei libri che abbiamo studiato per conoscere la storia della nostra città e soprattutto per incontrare quello che fu un grande diciamo travaglio sociale, politico ed economico di Napoli in quella fase storica. Oggi cade il giorno del suo compleanno quindi è una ricorrenza particolarmente significativa e si ricorda con questa targa il luogo dove è nato qui a Napoli nei quartieri spagnoli.